Un altro grande abituato presente sempre qua, non solo, ma al seguito di un altro direttore tecnico, quello attento e responsabile dell'orchestra, quindi la sistemazione logistica, i piani musicali, è un piacere dipendente, dicci il tuo nome e la tua gente. Babrielo Kolev, cittadinanza bulgara, della bulgaria, i migliori musicisti, auguri e complimenti.